Entriamo praticamente nelle esperienze da comunicare concrete e interessanti. La prima ce la illustra Gianluca Coggiola che è amministratore delegato di Cogedim che sta costruendo un complesso residenziale a Moncalieri. Perché è importante raccontare queste esperienze? Perché sostanzialmente l'aspetto importante è che noi abbiamo chiesto a queste imprese di portare dei casi reali per far capire come l'utente finale sta cambiando il modo di pensare e poi soprattutto di acquistare nuove costruzioni. Quindi questa è un'evoluzione importante e credo che oggi i relatori presenteranno proprio casi concreti di questo aspetto. Allora Coggiola, il privato che compra una casa oggi vuole più efficienza energetica? Sì o no? Ce lo dica lei. Guardi, la risposta alla sua domanda in linea di massima è sì. Chi oggi si appresta ad acquistare una casa vuole più efficienza energetica del costruttore. Per un semplicissimo motivo, che efficienza energetica vuol dire un risparmio nella gestione dell'immobile. Lei sa che il risparmio, soprattutto in questa contingenza economica che c'è adesso, è un argomento particolarmente caro a tutti. In realtà la risposta è un po' più articolata. Nel senso che noi siamo un'impresa di costruzione che è specializzata nel residenziale. Tenga conto che l'85% è la nostra produzione sul residenziale, quindi possiamo dire che facciamo quasi esclusivamente questo. Nella fattispecie io mi occupo sia dello sviluppo che proprio del commerciale, quindi della vendita, e ho un'interfaccia diretta con gli acquirenti finali. Di conseguenza sento le loro domande, le loro necessità e le loro aspettative nei confronti delle nuove abitazioni. Devo dire che prendendo un lasso di tempo di tre anni a questa parte c'è stata un'evoluzione. Nel senso che inizialmente da parte degli acquirenti c'era una certa diffidenza dovuta al costo maggiorativo rispetto a un impianto tradizionale. Io le do un dato che è stato diffuso dall'Enea e quindi possiamo prenderlo come riferimento perché è molto autorevole. un costo al metro quadrato di un impianto, parlo di un impianto termico, idraulico e elettrico, di una cava tradizionale di circa 300 euro al metro quadrato. Con le nuove tecnologie si passa a circa 450 euro al metro quadrato. Facciamo un conto veloce, un alloggio medio di 100 metri quadrati capisce che la differenza sono 815-18 mila euro di differenza. Ed è molto acquirente, hanno delle riserve, hanno delle riserve iniziali. Poi, con il parlarne sempre di più e con l'entrata in vigore anche della normativa, ha aiutato molto questo. Nel senso che c'è stata molto più conoscenza da parte dell'acquirente finale, quindi anche come piano di ammortamento. Lei si immagini che normalmente in 3-4 anni viene ammortizzata questa spesa, questa maggiore spesa iniziale. Ed oggi gli acquirenti ci viene richiesto. Noi nel commerciale facciamo anche un po' di didattica, tra virgolette, se vogliamo dire, nel senso che spieghiamo che cosa vuol dire efficienza energetica, perché uno si immagina che l'efficienza energetica è l'impianto fotovoltaico, l'impianto solare, i pannelli radianti. Non è solo questo. È anche l'utilizzo di materiali nella costruzione che rendono efficiente l'immobile. È stato parlato prima sia dall'ingegner Filippi che dall'architetto Bedrone, che l'immobile di per sé tutto deve essere efficiente. Voi insistete anche nella comunicazione su questo concetto, ma la reazione da parte... Guardi, la reazione ultimamente sta cambiando, nel senso che noi, meramente a titolo esplicativo, abbiamo portato questo nuovo progetto che è in partenza, partirà a fine anno, inizieremo adesso con una commercializzazione, una pubblicizzazione dell'iniziativa di Moncalieri. Noi vogliamo costruire delle case, degli immobili di classe A+. Breve parentesi, che cos'è la classe energetica? Penso che qui tutti i pazienti lo sappiano, magari qualche ascoltatore no. La classe energetica è quanto consuma, detto in parole molto semplici, quanto consuma l'immobile edificio al metro quadrato nell'anno. Ci sono le classi più virtuose, che sono la classe A++, della classe che consuma di più di tutto, che è la classe G, di cui parlavamo prima, ancora riscaldamento di carbone, quindi gli edifici... A Bolzano sono arrivati alla classe Gold, ma lì sono da un'altra parte. Un'altra categoria, un'altra tesina, un'altra categoria. Quindi, qui con me c'è l'ingegner Toso, che è il nostro progettista degli impianti. Non mi rubi il mestiere, io la parlo a Toso poi. Prego allora, volevo solo dire che lui ci spiegherà esattamente come noi facciamo, come faremo a costruire questi mobili di classe A, tenga conto che l'intervento che noi facciamo sono circa di 100 appartamenti, di cui il 40% è un'edilizia convenzionata. Quindi, lei sa che l'edilizia convenzionata non è l'edilizia popolare, comunque è un'edilizia di basso... Quindi, mi collego a quello che diceva l'assessore Bairati, che anche nell'edilizia di basso livello si può dare delle classi energetiche molto elevate. Ecco, ricordo di essere stato ad Alessandria, dove c'è un quartiere, il quartiere Cristo, che appunto è stato fatto con criteri di no... Sì, no, dico no, è stato no, è stato fatto con criteri miracolosi, però ha fatto bene mescolando edilizia pubblica e edilizia privata, insomma, nel nome della sostenibilità, c'è impianti fotovoltaici, insomma, è stato fatto in maniera... È un'esperienza che mi pareva interessante anche da segnalare.